Sabato 23 e domenica 24 settembre in piazza del plebiscito dalle 10 alle 18 sarà allestito il villaggio della salute. Due giornate sulla prevenzione e il benessere con la possibilità di ricevere informazioni, consultare specialisti ed effettuare screening gratuiti. Partecipa anche tu, l'appuntamento è in piazza del plebiscito sabato 23 e domenica 24 settembre. Grazie a tutti.